del post show, quindi molto da mezzanotte, un po' come guardarsi a casa, come si fanno degli ospiti divertenti, quindi sarà easy. Ecco, anche per tutti i giorni. Achille, easy è una parola che entra nel propagandale. Allora, innanzitutto, salvo tutti. Allora, per quanto mi riguarda, io non sono uomini per sostituire i giudici, non per giudicare nessuno, stranamente non sono uomini, ma sono buono, sarò amico di tutti. Quindi, niente, io appunto penso di avere un bel ruolo, perché ho passato quello che hanno passato i ragazzi, diciamo, dai parchi vuoti ai grandi parchi, quindi io sarò un po' consigliere di Pilar e la dottoressa, sarò a contatto con i ragazzi, li conosco come riconosce voi dall'esterno, però entrerò un po' nella loro linea del loro percorso, e tutto qui, insomma, diciamo, sarà divertente, ci sarà appunto nel posto di serata a modo di commentare le esibizioni, in modo giudicare le esibizioni. No, gli giudici li conosco tutti, più o meno, beh, non termini. Eh, ma io ho un sorrisino a Mara, io ho visto, Mara. Mara? Ma che è che ti fa? Tra me e Mara c'è un amore. Eh, io ho visto un sorrisino, quindi ho l'intuito, perché qualcuno non si aspetta che a Mara mai non ti possa piacere, a chi le lavora dai dettagli, dicendo, io ho amica, ma io sono amica, perché in dettagli siamo amici. Tu, infatti, ti ho dato un grande, come l'anno scorso, abbiamo fatto l'ultima scelta insieme, ti ho dato un grande consiglio. Dai, dove devi dire? Un prete e Anastasia. Spero che te sanno che non li darai, insomma, è un bel porta molto buono, e, naturalmente, io non mi parlo con i famigli, però adesso non mi parlo. Non mi parlo, non mi parlo, non mi parlo. Grazie. Va bene, buon divertimento e in parte di dire, ovviamente, buon lavoro. Andiamo.